Sabato 18 giugno 2022, buongiorno a tutti voi cari telespettatori di FanoTV, ben ritrovati a questo nostro consueto appuntamento del mattino, dalle 7 alle 7 e mezzo circa abbiamo la lettura dei giornali commento alla stampa del giorno con occhio ai giornali che è il programma che apre ufficialmente in diretta la mattinata informativa, la giornata informativa di FanoTV, canale 19, digitale terrestre allora iniziamo subito con il salto del giorno, andiamo a vedere con l'aiuto del cartello oggi è San Gregorio Giovanni Barbarigo, il sole è sorto alle 5.23, tramonterà alle 20.52 andiamo prima di vedere il tempo a dare un'occhiata alla nostra webcam, quella che punta ogni giorno su un posto diverso della nostra bellissima regione Marche, oggi siamo a Fano, di nuovo vedete questa immagine inconsueta che già vi abbiamo fatto vedere in realtà di Piazza 20 Settembre dove si sta preparando il mercato, mercato che si animerà tra poco con tantissima gente anche molti turisti che vengono per fare acquisti, acquisti anche o cercare qualche offerta vedete questo è bello vedere un po' come succede in spiaggia dove si aprono gli ombrelloni e sembra che si aprano come spuntino come funghi qui la stessa cosa, ombrelloni molto più grandi, vedete si stanno sistemando, si stanno preparando le bancarelle ecco qua, questo e tante rondini che girano intorno, vedete che bello allora adesso andiamo invece a collegarci dal centro storico di Fano andiamo sulla spiaggia di Sassonia dove c'è pronto per noi, per questo ultimo collegamento della settimana Tommy Il Bagnino allora Tommy buongiorno buongiorno Dacci subito le previsioni del tempo perché questo squarcio così, questo mare argentato con qualche onda ci preoccupa un po', ma oggi doveva essere tutto sole Eh sì, stamattina è stata un po' una sorpresa trovare questo cielo un pochino scuro ma siamo convinti che schiarisca già nelle prime ore della mattina Marco Bene bene, senti questo rumore meraviglioso delle onde sarebbe da stare in silenzio e godersi per rilassarsi un po', iniziare in modo rilassato questa giornata questo fine settimana, questo... tu sei fortunato, lo sai, sì Eh sì, dai, il lavoro più bello del mondo, no? Esatto, questo è il lavoro più bello del mondo allora noi siamo in chiusura, grazie per questa settimana trascorsa insieme naturalmente continueremo a seguire per le vicende di cui abbiamo accennato anche durante i collegamenti continueremo a seguire un po' le vicende del Bagni Carlo perché insomma aspettate queste scogliere che vi risolvano un po' la vita Grazie mille, grazie mille per il sostegno Allora grazie anche a tutti i tuoi collaboratori buona giornata, buona estate a tutti quanti Buona giornata e buona estate a tutti Bene, grazie a Tommy, allora andiamo a vedere velocemente il tempo non c'è molto da dire rispetto all'immagine che vi abbiamo fatto vedere in diretta dalla spiaggia di Fano in realtà come diceva Tommy appunto dovrebbe schiarire quindi queste sono le previsioni per oggi dalla protezione civile delle Marche costa adriatica completamente soleggiata domani addirittura soleone su tutta la regione mentre lo stesso anche lunedì 20 vedete tutto sole con temperature in aumento addirittura nei valori massimi la permanenza dell'alta pressione continua a garantire dunque giornate stabili anche per i prossimi giorni e questo chiaramente crea non pochi disagi sul fronte dell'approvvigionamento idrico perché insomma adesso qui non abbiamo le pagine nazionali ma insomma a leggerle questa mattina non mette certo il buon umore perché già si parla di razionare addirittura l'acqua durante le ore notturne molte regioni del nord stanno già predisponendo pur non essendo cominciata l'estate ufficialmente perché inizia il 21 stanno applicando le multe per chi spreca l'acqua e insomma l'estate non sarà una passeggiata e soprattutto i meteorologi parlano di caldo record con precipitazioni praticamente quasi inesistenti e questo è lo scenario quindi tanto per stare un pochettino sereni adesso però noi invece andiamo a vedere come facciamo sempre i giornali locali quindi abbiamo come sempre il resto del Carlino, l'edizione di Pesaro e il Corriere Adriatico stessa cosa, l'edizione di Pesaro cominciamo dal Corriere la prima notizia, la notizia di apertura è sulla Movida la cosiddetta Movida la parola spagnola che indica il divertimento serale ecco, stretta del prefetto gli steward, coloro che siamo più o meno tutti quanti così conosciamo perché indossano per esempio delle casacche gialle negli stadi quelli che stanno impassibili a guardare il pubblico e danno le spalle al campo da calcio ecco, quelli sono gli steward, coloro che controllano i controllori questi steward adesso saranno obbligatori per le feste negli stabilimenti poi pattugliamenti rafforzati in zona mare e videosorveglianza rimarcata al Comune di Pesaro l'opportunità di ordinanze anti-alcol per i minori e della regolamentazione della musica sotto invece al centro pagina la fotonotizia sul super bonus, la rivolta dei ponteggi protestano le aziende edili a rischio fallimento poi parla Menichelli sulla questione sul caso di Federico Carboni detto Mario, il 44enne tetraplegico che giovedì ha posto fine alle sue sofferenze con il suicidio medicamente assistito e parla appunto il cardinale Edoardo Menichelli che dice dal punto di vista umano il silenzio è d'obbligo nessuno di noi può comprendere fino in fondo quel che avviene in una persona che vive queste situazioni così gravissime di sopravvivenza ma, e poi vedremo che cosa dice a proposito poi c'è la cronaca, tanta cronaca un tragico investimento un operaio che perde la vita mentre va al lavoro è successo a Pesaro poi, sempre da Pesaro un medico di base che è finito a processo perché ha esentato una persona che secondo il medico non poteva fare il vaccino in quanto aveva una malattia autoimmune e quindi in coscienza ha detto che per lui era meglio fare l'esenzione però gli erano fatta in qualche modo pagare e quindi è finito a processo anche se poi l'ordine dei medici non è intervenuto in questo caso non gli ha detto pare nulla insomma, questa è la situazione in cui molti medici sono stati costretti a lavorare andare anche contro la propria coscienza pur di non avere beghe mentre i contributi agli eventi andrà certificato il valore e il merito anche questa è una notizia che vedremo tra poco sulla pagina di Fano del Corriere praticamente ci sono tante associazioni che organizzano eventi durante l'estate e insomma organizzando questi eventi chiedono i contributi al comune in questo caso il comune di Fano ecco, cambiano un po' i modi di erogazione bisognerà anche qui si aumenta la burocrazia certo il controllo per carità ma io non credo che uno faccia le manifestazioni per prendersi soldi a scrocco insomma comunque certamente per chi organizza le manifestazioni deve chiedere un contributo al comune sarà un impiccio in più e comunque a garanzia dei cittadini che comunque pagando le tasse poi finanziano questi eventi un po' e un po' una giovane coppia invece lo vedremo tra un istante in bicicletta uccisa da un'auto impazzita notte di sangue sul lungomare di Marina di Montemarciano la conducente inlesa insieme alla figlia di sette anni è stata prima arrestata e poi liberata poi Pesero Film Festival armocida ricorderemo Monica Vitti e adesso il resto del carino sempre edizione di Pesero la fotonotizia e per l'ultimo saluto l'ultimo canestro anzi a Paolo Gurini che è l'indimenticato l'indimenticabile giocatore di pallacanestro che i pesaresi hanno voluto salutare ieri per l'ultima volta alla parrocchia del Porto vedete la fotonotizia poi invece in apertura Marche Pride il giorno della verità operaio travolto ucciso si era svegliato all'alba per il turno nel mobilificio un vestito in bicicletta la tragedia è successa a Borgo Santa Maria le altre notizie sempre dalla prima del Carlino allora ci sono buone notizie da Roma per quanto riguarda l'arretramento della ferrovia quella che costeggia praticamente passa a due passi dal mare anche Fano riesce a prendere il treno ma come vedremo tra poco questa 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 cosa di aiutare Fano e di lasciare indietro altri paesi come Marotta Mondolfo eccetera eccetera ha fatto storcere il naso per esempio al sindaco di Mondolfo Barbieri lo vedremo tra un istante poi mille euro a turno ma nonostante questi soldi i medici non si trovano lo stesso quelli che dovrebbero poi andare al pronto soccorso lavorare al pronto soccorso poi falsa esenzione per il vaccino a processo un medico di base a richiederlo era stato un infermiere poi mostra del cinema c'è Abel Ferrara e si inaugura con il mitico Ette la rassegna al via oggi poi sotto invece lo sport VL sceglie dunque Repesia il croato Costa Ario Costa tratta il contratto ieri c'è stato un lungo consiglio di amministrazione interno della VL perché non tutti erano d'accordo come dicevamo per il ritorno di Repesia perché insomma se n'era andato via non tanto bene l'anno scorso insomma ecco qualcuno storto in alto ma poi alla fine ho deciso per Repesia Vispesor invece caccia aperta agli under di qualità serie C dunque si parla di mercato ma qui parliamo invece di questa tragedia in mane che si è consumata l'altra notte a Marina di Monte Marciano siamo in provincia di Ancona il titolo dal Corriere Adriatico mamma nell'auto proiettile falcia una coppia di ciclisti un tragico volo due vittime ecco le vittime Alberto Catani 42 anni Stefania Viterbo 39 anni tornavano dal mare scaraventati a 20 metri nessun segno di frenata lo schianto giovedì sera l'ex calciatore e la barista sono deceduti sul colpo ed ecco invece lo scenario terribile di questo incidente i corpi li vedete straziati di Alberto e Stefania Travolti con queste lenzuola lenzuoli bianchi travolti da questa panda di colore giallo e poi ecco un'altra immagine qui sulla destra di questo spaventoso scenario del tragico incidente di giovedì sera dove c'è questo camper di cui abbiamo parlato si è parlato proprio la corsa è finita lì insomma questa l'auto non si è accorto praticamente non si è accorta almeno così il racconto della donna di con lei che stava alla guida di questa 38enne che è finita indagata anche per omicidio stradale e con lei nella macchina c'era anche la sua bimba di 7 anni che non dimenticherà certamente mai questo tragico incidente tant'è che a un certo punto la bambina chiede alla mamma mamma abbiamo ucciso due persone a 7 anni la vita dovrebbe essere a colori non un film dell'orrore il sangue sulla strada un groviglio di lamiere due corpi straziati coperti da un telo bianco la bimba dopo il pauroso incidente è avvolta nell'abbraccio della madre che non riesce a consolare nemmeno se stessa figurarsi la figlioletta scattaiolata con lei fuori dalla panda capottata che nella sua corsa ha ucciso due fidanzati in bicicletta sono rannicchiati in un angolo piangono e sono disperate un boato il racconto dei testimoni un boato tremendo come un treno deragliato parla un turista svegliato da quest'auto finita contro il suo camper lui era dentro si è sentito questo rumore poi sta botta e lui era dentro appunto si era appena appisolato Giovanni aveva cenato si era messo a riposare dopo una giornata trascorsa in spiaggia e la testimonianza forse più terribile è quella di Eleonora l'infermiera che è intervenuta per prima e che ha soccorso le due povere vittime lui è morto racconta questa infermiera davanti a me mentre la ragazza Stefania è morta praticamente sul colpo ma c'è un'altra tragedia che si è consumata a poche ore di distanza alle prime luci dell'alba a Pesaro a Borgo Santa Maria la vittima aveva 32 anni lavorava come operaio in un mobilificio della zona industriale di Borgo Santa Maria dove questo giovane pakistano Ali Arshad lavorava stava andando praticamente diciamo in bicicletta a coprire il primo turno di lavoro erano intorno le 5.30 del mattino il 32enne è stato travolto ucciso mentre si metteva sulla provinciale 423 è stato investito da una Ford Puma che stava sopraggiungendo e che era condotta da una signora di 54 anni e poi ad Apecchio invece un paesino al confine sempre dalla provincia di Pesorubino un quarantenne boscaiolo che è stato ritrovato impiccato aveva 40 anni di origini rumene da tempo però ad Apecchio è stato trovato in casa impiccato in soffitta a lanciare l'allarme un altro boscaiolo rumeno con cui dividiva la casa ritorno verso l'ora di pranzo perché insomma non l'hanno non l'ha trovato non era con lui e quindi è scattato poi sono scattate poi le ricerche andiamo sulla pagina di Pesor invece del resto del Carlino per l'ultimo saluto e l'abbraccio della folla alla chiesa del porto a questo campione del basket il titolo un muro umano per l'ultimo saluto a Gurini Gurini eccolo qua lo vedete in questa fotografia in questa immagine c'era il basket con i tanti giocatori di un tempo la bara entrata è uscita tra gli applausi vecchi amici e compagni sono venuti da Bologna Milano Riccione e c'era anche la presenza della VL l'addio invece a Barchi siamo sempre in provincia di Pesurbino a Giannina chi è Giannina? Giannina Fucili è quella donna di 67 anni trovata priva di vita la sera del 10 giugno nella sua casa in piazza Filippo III è una donna che è stata trovata morta dopo alcuni giorni senza che lei potesse chiedere aiuto e che il marito convivente 85enne che però è in gravi condizioni di salute sia stato neppure in grado di dare l'allarme nelle ore e nelle giornate successive quindi una tragedia se vogliamo nella tragedia a celebrare il rito funebre nella chiesa della Santissima Ressurrezione è stato il parroco Don Mirco Ambrosini andiamo avanti tutte vittime di una deriva la vita non è una proprietà fatta di efficienza e bellezza questo è il titolo sul quale ecco vi invito a riflettere parlando di questa vicenda della quale si è occupato praticamente tutta Italia la vicenda è quella di Mario il primo in Italia ad aver ottenuto il suicidio medicalmente assistito ecco questa mattina interviene il cardinale Edoardo Menichelli già arcivescovo di Ancona Osimo ieri c'era Angelo Spina oggi è il cardinale Angelo Edoardo Menichelli lui è il cardinale allora come vedete dalle sottolineature io la volevo fare un po' più lunga ma a questo punto direi soltanto di andare qui in fondo perché in questa intervista di Lucilla Nicolini credo che questo passo dell'intervista questo bravo dell'intervista in fondo sia conclusivo sia molto importante ecco la domanda della collega è ha mai pensato Eminenza a cosa farebbe lei se si trovasse in una situazione simile a quella di Mario ecco la risposta del cardinale Menichelli è non penserei mai a chiedere di morire la mia vita non è bella solo perché sono quello che sono cioè un cardinale e se è bella per quello che è per quello e per quello che comporta gli acciacchi la morte stessa che arriverà quando vuole mi permetta di aggiungere che se ci troviamo a ragionare su questa questione è anche perché abbiamo perso il senso di vita comunitaria la comunità sociale familiare è o dovrebbe essere una custodia un grembo che consola e che aiuta le famiglie a fronteggiare ogni dolore svolta sulla ferrovia c'è questo progetto faraonico a mio avviso ma pare che si intenda andare avanti vedremo se sarà così di arretrare l'attuale ferrovia adriatica quella che i pesaresi i fanesi insomma tutti gli altri via via fino a Ancona conoscono perché di fatto è sul mare ecco si tratterebbe di toglierla da lì e spostarla arretrarla più verso l'interno ora si sta ragionando ovviamente ancora siamo un po' in una fase altro che embrionale ancora prima ma comunque in questa in questa materia si parla di svolta perché perché mentre inizialmente sembrava che questa ferrovia si spostasse si arretrasse soltanto grazie all'intervento di Matteo Ricci su Pesaro per Pesaro adesso invece Ricci ha capito che forse sarebbe il caso di coinvolgere anche per esempio la vicina Fano che dista da Pesaro soltanto 12 km e quindi pare che adesso insomma verrà arretrata anche a Fano però cosa succede che questa cosa ha fatto un po' indispettire un altro sindaco che non è stato invece per nulla coinvolto ovvero il sindaco di Marotta Mondolfo che è Nicola Barbieri che vedete in questa fotografia qua sulla destra e allora lui si domanda è normale che il presidente della provincia e il suo dirigente all'urbanistica facciano gli interessi solo di una parte del territorio quindi di Pesaro e di Fano e la domanda posta dal sindaco Barbieri escluso dal vertice sulla linea adriatica che attacca e dice su un tema così importante come quello dell'arretramento della ferrovia dovrebbero essere coinvolti tutti i comuni del territorio interessati questo atteggiamento ci stupisce e indigna non tanto per i due sindaci che non sono nuovi a queste cadute di stile ma per il comportamento della provincia un operato che denota un'arroganza inaccettabile insomma parole di fuoco di questo giovane amministratore che tra l'altro insomma giovane sì ma uno che ormai conosce i meccanismi della politica perché oltretutto è il suo secondo mandato ed è stato rieletto alla grande poi contributi alle manifestazioni ecco qui siamo sulla pagina di Fano qui ci sono i nuovi criteri per le erogazioni dei fondi dei soldi quindi io associazione che voglio organizzare la festa delle biglie a Fano ecco chiedo un contributo al comune e che cosa devo fare insomma devo devo dire che merito questa cosa merito di riceverli che io sono importante e quindi tra le novità richieste come si diceva Massimo Poglietti questa mattina ci sono la richiesta di numerosi dati alle associazioni come se queste associazioni fossero delle grandi organizzazioni che hanno segretaria vice segretaria aiuto segretaria eccetera eccetera quindi alla fine poi poveretto si ritrova sempre il presidente a fare tutto per tutti quindi dare dati alle associazioni queste organizzatrici di eventi che richiedono un contributo all'amministrazione ora che cosa devono dare quali sono i dati richiesti chi sono gli utenti dell'evento e già qui si fa complicata come faccio a saperlo qual è il loro numero quindi devo essere un po' un indovino l'età o comunque questo anche dopo immagino quindi io faccio l'evento prima spendo i soldi poi in base a come è andata dico io ho avuto mille persone avevano 15 anni dai 15 ai 30 devo fare una scheda ragazzi vabbè comunque vado avanti la provenienza di queste persone quindi devo chiedere anche dati sensibili scusi lei da dove viene io vado alla sagra dalla porchetta mi dicono ma lei da dove viene ma te che te frega potrei anche rispondere così e quali metodi sono stati adottati per desumere tali informazioni quindi ci vuole qualcuno che raccolga e che sia anche autorizzato a chiedere questi dati poi come si promuove l'evento su quali canali avviene la promozione che budget si investe qual è il rapporto con il budget dell'annualità precedente insomma dovrebbero essere delle società per azione SPA adesso queste associazioni vabbè comunque non lo so comunque è passata questa mozione quindi vuol dire che erano tutti d'accordo pista ciclabile a metauriglia sono tutti contro vorrebbero cementificare 3 km di spiaggia e questo non è accettabile e poi si andrebbe a distruggere il nido dell'uccello fratino ok quindi salvaguardiamo la casa dell'uccello fratino e niente pista ciclabile la contrarietà le contrarietà maggiore arrivano dalle associazioni ambientaliste che ovviamente lo devono fare per mestiere e quindi va bene così nasce invece un bosco vicino all'aeroporto verranno piantumati 6.000 nuovi alberelli è un'iniziativa di Erbolia società che investirà oltre 100.000 euro c'è un servizio che abbiamo trasmesso ieri sera nel nostro telegiornale quindi se vi va potete rivederlo in qualche modo poi lavori alla Sassonia invece ecco questo è interessante perché naturalmente anche i turisti si saranno accorti a Fano che lungo la Sassonia ci sono dei cantieri dei bobcat tante ruspe in azione che stanno lavorando vicino alle abitazioni alle case per l'acqua per tutto quello che riguarda i lavori di bonifica della rete idrica ora i disagi annuncia ASET saranno ancora abbastanza lunghi soprattutto per chi vuole in quelle zone parcheggiare e anche per i residenti che comunque protestano mentre il comune a Pesaro cerca un gestore per la vitri frigo e l'hangar le domande entro il prossimo 15 luglio l'arena finora era affidata ad ASPES quindi ASPES viene fuori e insomma gestire un'astronave come la vitri frigo non credo sia una cosa che possono fare tutti ma comunque questa è la notizia mentre a Cartoceto a Cartoceto secondo Longhi Gianluca Longhi capogruppo di minoranza nel consiglio comunale di Cartoceto mancano personale e dirigenti la macchina comunale è in panne cioè è ferma non produce secondo Longhi settori impossibilitate dare risposte ai cittadini c'è solo l'ufficio staff mentre andiamo adesso invece a vedere devo andare un po' di corsa Urbino continua la spogliazione della città ma non alla rinuncia no alla rinuncia all'arcivescovo tutti vogliono il vescovo a Urbino non vogliono che a gestire il gregge Urbinate ci sia un pastore di Pesero non sia l'attuale ecco grazie Riccardo per l'orologio non sia l'attuale vescovo di Pesero perché sapete che le linee del Vaticano sono queste cioè siccome l'arcivescovo Giovanni Tania andrà in pensione non ci sarà un suo successore quindi la diocesi di Urbino sarà sotto il governo del vescovo l'arcivescovo tra l'altro appena eletto di Pesero su Fano invece non si sa nulla ma la diocesi di Fano è una diocesi molto grande quindi sarà un po' difficile accorpare anche quella non credo che si andrà a questo però anche qui il nostro insomma il vescovo di Fano Trasarti credo che anche lui tra poco il prossimo anno dovrebbe andare in pensione allora adesso invece ecco anche qui sulla pagina di Urbino addio arcidiocesi Guidi dice preoccupati da mesi il vice sindaco ci vuole prudenza e gradualità lunedì ci sarà comunque il consiglio comunale straordinario invitati anche gli altri municipi e dunque Urbino è una città in fermento la perdita di autonomia dell'arcidiocesi non va proprio giù e si susseguono gli interventi e le prese di posizione tutte incentrate nella critica verso la decisione che priverebbe l'entroterra del suo pastore e nella riaffermazione che qualcosa vada fatto prima per rimediare ad una situazione che ha dell'inverosimile perché Urbino ha tutti i titoli religiosi storici culturali per continuare ad essere un proprio per continuare ad avere un proprio arcivescovo e c'è anche chi pensa che ad Urbino potrebbe essere nominato un cardinale arcivescovo non residente da scegliere tra le figure di prestigio non impegnate in attività specifiche ok allora adesso invece andiamo sull'altra pagina di Senigallia questa volta di Senigallia del Corriere anch'io derubato in discoteca ho avuto paura sono andato via il ragazzo non ha denunciato niente nessuno un balordo dietro di me racconta che insomma lo stava pedinando non volevo finire la nottata in ospedale e quindi insomma alla fine ha preferito fare giustamente quello che credo alla fine sia la cosa più giusta e più sensata prendersene e andare via senza far troppi discorsi la collanina mi è stata strappata con un solo gesto sul collo ho ancora i graffi e poi lo sport per chiudere allora Fano prende quota Amaranti il presidente russo starebbe pensando ad un consulente di mercato più che a un altro direttore sportivo e Carcalis conferma mi piacerebbe molto restare dopo questa salvezza così così sofferta poi l'Urbino che vuole ripartire da Ceccarini ma dovremo sicuramente fare di più il vice presidente Lucarini e la squadra della prossima stagione mentre la Vuel ha scelto Repegia come abbiamo visto ieri lunga discussione del CDA mandato di trattare a costa pomeriggio con acceso confronto tra i componenti del Consiglio alla fine ha avuto ragione il gruppo che sosteneva il ritorno del croato ed è tutto grazie per aver seguito Occhio ai giornali vi auguro un buon fine settimana restate qui sul canale 19 tra poco perché ci segui in diretta in collegamento con la Santa Casa di Loreto avremo la Santa Messa poi tutti gli appuntamenti del giorno i programmi del nostro territorio e stasera alle 20.30 c'è 7 per Occhio il magazine che racchiude e vi mostra tutte le notizie più importanti della settimana noi ci vediamo lunedì grazie grazie a tutti grazie a tutti